Sonari della luce di André Luiz, capitolo 16. Incorporazione, terza parte. Raggiungemmo il vasto salone di quel laboratorio di spiritualità, precisamente quando mancavano 15 minuti alle 20. Come sempre, i lavoratori del nostro piano erano numerosi nei molteplici lavori di assistenza, preparazione e vigilanza, e mentre alcuni amici ansiosi e la famiglia del comunicante, costituita da moglie e figli, aspettavano la parola di Dionisio, era molto grande il nostro sforzo per migliorare la posizione ricettiva di Ottavia. Come sempre, Alessandro si impegnava nell'offrire il buon esempio di vigorosa cooperazione. Determinò che alcuni dei nostri collaboratori soccorressero in maniera generale il sistema endocrino e offrissero al fegato migliori risorse per la normalizzazione immediata alle sue funzioni, in modo che si stabilisse il giusto equilibrio per lo stomaco e l'intestino, in virtù delle necessità del momento, affinché l'apparato medianico funzionasse con la maggiore armonia possibile. Alle ore venti, riunita la piccola assemblea di fratelli incarnati, fu iniziato il servizio con la commovente preghiera del compagno che dirigeva la casa. Avalendosi dal concorso magnetico che le era stato offerto, la medium si sentiva molto più forte. Una volta in più contemplavo, stupito, il fenomeno luminoso dell'epifesi e accompagnavo il prezioso lavoro di Alessandro nella tecnica di preparazione medianica, osservando che lì l'istancabile istruttore si tratteneva con maggior attenzione nel compito di ausiliare tutte le cellule della corteccia cerebrale agli elementi del centro del linguaggio e ai muscoli del sistema motorio della parola. Finita la preghiera e portato a effetto l'equilibrio vivatorio dell'ambiente con la cooperazione dei numerosi servitori del nostro piano, Ottavia fu dirigente e parzialmente appartata sul suo veicolo fisico. Dionisio, allo stesso modo, cominciò ad avvalersi delle possibilità della medium. Ottavia si manteneva a breve distanza, ma con il potere di riprendere il corpo in qualunque momento lei desiderasse, conservando relativa coscienza di tutto quello che stava succedendo, mentre Dionisio riusciva a parlare da solo, ma mobilitando potenzialità che non gli appartenevano e che avrebbe dovuto usare accuratamente sotto il controllo diretto della legittima proprietaria e sotto l'affettuosa vigilanza degli amici e benefattori che gli scrutavano l'espressione con lo sguardo per mantenerlo in buona posizione di equilibrio emotivo. Riconobbi che il processo di incorporazione comune era il più o meno identico a quello dell'innesto degli alberi da frutta. La pianta estranea rivela le sue caratteristiche e offre i suoi frutti particolari, ma l'albero innestato non perde la sua personalità e prosegue operando con la sua vitalità. Anche lì Dionisio era un elemento che aderiva alle facoltà di Ottavia, utilizzandole nella produzione dei valori spirituali che gli erano caratteristici, ma naturalmente subordinato alla medium, che senza la sua crescita mentale, forza e ricettività non sarebbe stato possibile per il comunicante rivelare davanti agli assistenti le caratteristiche di se stesso. Per questo, logicamente, non era possibile isolare completamente l'influenza di Ottavia, che era vigile. La casa fisica era il suo tempio, che urgeva difendere contro qualunque espressione squilibrante e nessuno di noi, i disincarnati presenti, aveva il diritto di esigere un maggior allontanamento, perché le competeva a proteggere le sue potenzialità fisiologiche e preservarle contro il male vicino a noi o a distanza dalla nostra assistenza affettiva. Tuttavia, la nostra atmosfera di armonia non riusciva a calmare la perturbante aspettativa nei compagni incarnati. Tra di noi prevalevano il controllo, la disciplina, l'autocontrollo. Tra di loro soffiavano lo squilibrio e l'inquietudine. Esigevano un Dionisio, l'uomo per la bocca di Ottavia, ma il nostro piano gli imponeva un Dionisio spirito attraverso le espressioni della medio. La famiglia umana aspettava il padre emozionato e ancora sottomesso a passioni poco costruttive, ma noi succorrevamo il fratello affinché la sua anima si mantenesse calma e nobilitata a beneficio dei suoi parenti terrestri. Il comunicante parlava sottoforte emotività, ma Alessandro e Deuclide, occupandosi rispettivamente dei due e dell'intermediaria, gli controllavano gli atteggiamenti e le parole affinché si manifestasse solamente su temi necessari per l'edificazione di tutti, responsabilizzandolo per tutte le immagini mentali nocive che la sua parola potesse creare nel cervello e nel cuore degli ascoltatori. Per questo il comunicante si comportò con ammirabile dignità spirituale in tutti i punti del messaggio parlato, facendo veri prodigi di disciplina interiore per tacere certe situazioni familiari e contenere le lacrime trattenute nel cuore. Dopo aver parlato quasi 40 minuti, rivolgendosi alla famiglia e a compagni della lotta umana, Dionisio salutò, ripetendo una commovente preghiera di gratitudine che Alessandro gli dettò commosso. Il nostro concorso era trascorso con assoluta armonia. Il manifestante offrì i possibili elementi di identificazione personale, ma la piccola congregazione degli incarnati non ricevette il dono come avevamo desiderato. Conclusa la concentrazione mentale con il termine della comunicazione, incominciarono i commenti, verificandosi che un 80% degli assistenti non accettava la vericità della manifestazione. Solamente la moglie di Dionisio e alcuni pochi amici ne sentirono effettivamente la parola viva e vibrante. Gli stessi figli si adentrarono nella ragione del dubbio e della negazione. Interpellato da uno dei compagni, il più grande commentò «Impossibile, non può essere mio padre. Se il comunicante fosse lui, naturalmente avrebbe commentato la nostra difficile situazione familiare». Un altro dei figli di Dionisio aggiunse superficialmente «Non credo in una simile manifestazione. Se fosse papà, avrebbe risposto alle mie domande intime. Sarà che nell'altro mondo i genitori non si ricordano più dell'affetto dovuto ai figli?» In un gruppo che chiacchierava, formato in uno degli angoli della sala, cominciò la maliziosa insinuazione. Solo la vedova e i tre fratelli di ideale elevato si mantenevano vicino alla medium, incentivandole lo spirito di servizio con parole e pensieri di comprensione e di allegria. Nel gruppo dove i figli esteriorizzavano impressioni ingrate, un amico, influenzato dallo scientismo, affermava solenne. «Non possiamo accettare la pretesa incorporazione di Dionisio. Ottavia conosce tutti i particolari della sua vita passata, rimane quasi quotidianamente in contatto con la famiglia e lo spirito comunicante non ha rivelato nessuna particolarità per la quale potesse essere identificato». E dopo aver lasciato la cenere della sigaretta di un portacenere vicino, aggiungeva «con mordacità, il problema della medianità è questione molto grave nella dottrina. L'animismo è da tutte le parti un'erba dannosa. Il nostro scambio col piano invisibile è pieno di plurivoli inganni». Guardando con sorpresa, uno dei giovani presenti domandò improvvisamente «Lei ritiene la signora Ottavia capace di ingannarci?» Non consapevolmente, affermò lo scienziato, con un sorriso di superiorità, ma inconscientemente sì. La maggioranza dei medium è vittima dei propri deliri emotivi. Le personalità comunicanti in genere rappresentano creazioni mentali dei sensitivi. Ho studiato pazientemente il tema per non cadere come succede a molta gente in conclusioni fantastiche. Bisogna fuggire dal ridicolo, amici miei, e sarcasticamente continuava a sorridere mentre accentuava trionfante. Le manifestazioni dell'inconscio, l'ipnosi profonde, riescono a confondere i più coraggiosi investigatori. È come se le parole difficili e i riferimenti preziosi rappresentassero l'ultima soluzione dal tema, proseguiva in fatico. Per correggere gli stralipamenti dell'immaginazione dello spiritismo, si creò la metapsichica per dirigere le nostre investigazioni intellettuali in tal senso. Non possiamo dimenticare che proprio Richet morì dubitando. Non gli bastarono decine di anni consecutivi di studio sistematico dei fenomeni. Le stesse materializzazioni non gli assicurarono la certezza della sopravvivenza. Pertanto, la ridotta assemblea ascoltava le infatiche parole, come se parlasse un oracolo infallibile. In un altro lato del salone si commentava lo stesso tema discretamente. Non credo nella vericità della manifestazione, affermava a voce bassa una signora relativamente giovane, rivolgendosi al marito e alle amiche. Fin dei conti, nella comunicazione, è prevalsa la banalità. Niente di nuovo. Per me, le parole di Ottavia provengono da lei stessa. Non ha sentito nessuna indicazione convincente rispetto alla possibile presenza del nostro vecchio amico. La sfera dei disincarnati sarebbe molto poco interessante se offrisse solamente a quelli che ci precedono le frivolezze che il supposto Dionisio ci portò. Forse ha avuto qualche perturbazione, disse il marito della stessa signora. Non ci troviamo liberi dai mistificatori del piano invisibile. Il gruppo nascondeva le risatine. Non sperimentai mai tanta delusione come in quegli istanti nei quali esaminavo il processo di incorporazione medianica. Nessuno ponderava lì le difficoltà di Euclide, il buon cooperatore spirituale dovette affrontare per portare alla casa la consolazione di quella notte. Nessuno ponderava sulla lotta che quell'avvenimento rappresentava per la stessa media, interessata a servire con amore nella causa del bene. I compagni incarnati si sentivano assolutamente creditori di tutto. Benefattori spirituali, nell'opinione dei presenti, non smetterebbero di essere semplici servitori dei loro capricci, tornando dall'oltretomba solo per soddisfare il loro gusto per le novità. Con rare eccezioni nessuno pensò in termini di consolazione, edificazione o di buon profitto nell'esperienza ottenuta. Invece di gratitudine dell'osservazione costruttiva, coltivavano la sfiducia e la maldicenza. Alessandro percepì che Euclide accompagnava la scena con giustificata delusione, aggravata dalle avvertenze della vigilia. Ma praticando la sua fede di amore e gentilezza, l'istruttore gli raccomandò di appartarsi, confidandogli le cure per l'entità comunicante che doveva ritornare senza perdita di tempo al suo posto di origine. L'istruttore mi si avvicinò, comprese il mio stupore, disse non stupirti e i nostri fratelli incarnati soffrono di complicate limitazioni. E mostrando un volto fiducioso e allegro affermò per il resto come tu osservi bene la maggioranza ha il cervello ipertrofico e il cuore piccolo. In generale i nostri amici della terra criticano in eccesso e sentono molto poco. Apprezzano la comprensione altui. Tuttavia raramente sono disposti a comprendere gli altri. Ma il lavoro è una concessione del Signore e dobbiamo fidarci della provvidenza del Padre lavorando sempre per il bene. Subito fece alcuna raccomandazione ai vari amici che sarebbero rimasti nel locale di realizzazione spirituale e disse andiamo allontaniamoci vicino alla porta sentimo che un gentiluomo diceva al direttore dei servizi tutti noi abbiamo il diritto di dubitare non sentì la risposta dell'interlocutore incarnato ma Alessandro considerò con l'aspetto di un padre ottimista e buono quasi tutte le persone terrestri che si avvalgono della nostra cooperazione si sentono in diritto a dubitare è molto raro che appaia un compagno che si senta con il dovere di aiutare. grazie